Ora c'è un'altra possibilità per l'Inter ancora con Dodò e Kozmanovic pronti a battere il calcio di punizione. Allora Vidic, Andreoli in Vila a formare una sorta di trenino, lo vedete in mezzo all'area. Parte Dodò, il suo sinistro colpo di testa e il gol di Nemanja Vidic. Inter in vantaggio al 46esimo minuto, il gol di Vidic. E taglia perfettamente sul primo palo e sblocca la partita proprio nel minuto di recupero. Gol di Vidic, un classico movimento, tanti anni di Premier League, l'ha fatto tante volte. Movimento sul primo palo, molto buono lo schema sul calcio piazzato con questo trenino che si apre. Vidic va sul primo palo e poi impatta benissimo sul cross teso di Dodò.